Ha provato a rubare un orologio a una coppia di turisti seduti ai tavoli esterni di un ristorante, ma i clienti si sono fatti giustizia da soli, picchiandolo e mobilizzandolo a terra. E' caduto a pochi metri da Via del Tritone, in pieno centro a Roma, sul posto i poliziotti delle volanti. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Come raccontano alcuni testimoni, due turisti stavano mangiando all'ora di pranzo, seduti ai tavolini di un ristorante. Quando si sono accorti della presenza di un ragazzo che si era avvicinato e stava tentando di derubarli di un orologio, i due si sono scagliati contro di lui e hanno iniziato a picchiarlo con violenza. Poi, dopo essersi fatti giustizia da soli, hanno abbandonato il ragazzo sotto un palazzo della stradina accanto, il vicolo del Gallinaccio. Quindi si sono allontanati. Nel frattempo alcuni passanti e altre persone presenti hanno fatto scattare l'allarme. In breve tempo sono arrivati gli operatori del 118 che hanno trasferito il giovane di 21 anni all'Umberto I, in codice rosso, e gli agenti della polizia lo hanno denunciato in stato di libertà.